Vacanze intelligenti. Certo, la credibilità di questo concetto è in crisi almeno da quando Alberto Sordi diresse 31 anni fa l'omonimo episodio cinematografico in cui si narravano le disavventure di una simpatica coppia di frutti vendoli romani. Oggi invece un gruppo di viaggiatori curiosi e sensibili sperimenta un nuovo tipo di turismo ecosolidale coniugando insieme escursionismo, natura, scoperta sociale e culturale con la collaborazione di alcune organizzazioni non governative impegnate in progetti di sviluppo. Provengono da Milano, Venezia, Genova, Torino, Bologna, Firenze e Roma. Sono gli amici del trekking. Lo scenario è la perla d'Africa, ovvero l'Uganda, una nazione che dal 1966 è stata lacerata da brutali dittature e guerre civili durate più di vent'anni. Mentre nel nord del paese la pace è arrivata soltanto nel 2006. Qui la violenza è stata inaudita. La popolazione inerme è costretta ad abbandonare città e villaggi per rifugiarsi nei campi profughi. Ed i bambini soldato sono stati i sanguinari e meticolosi esecutori dei più atroci ordini di morte. Da cinque anni si lavora per la ricostruzione, ma le risorse sono insufficienti. Anche quattro fondazioni bancarie italiane danno il loro aiuto. Ci impegniamo da tre anni in un progetto integrato che sostiene il rientro degli sfollati dai campi sfollati alle loro zone di origine. Quindi si lavora nell'ambito dell'agricoltura, della sicurezza alimentare, l'acqua, quindi la revitalizzazione delle risorse idriche, la sanità, un settore molto molto importante anche nello sviluppo economico, attività generatrici di reddito, l'educazione, un pilastro per il futuro di questo paese e un'attività trasversale che promuove la pace e la riconciliazione. Seguiamo i nostri esploratori lungo il loro cammino di scoperta e conoscenza. La prima tappa è nel villaggio di Kamonoju ed è festa grande. Gli abitanti le accolgono con canti e balli tradizionali. Saluti e presentazioni sono d'obbligo ed è già ora di pranzo con un sontuoso banchetto preparato dalle donne. Nell'area opera il Cesvi, una ONG di Bergamo con numerosi progetti, tra cui uno per le persone sieropositive. Abbiamo trovato il coraggio di dichiararci pubblicamente sieropositivi, invitando la gente a fare i test anti-HIV. Solo vincendo tutti insieme la paura troveremo la forza di andare avanti. La situazione è migliorata perché siamo riusciti a responsabilizzare anche i più diffidenti. Gli operatori ascoltano i nostri problemi. Le madri si sottopongono a programmi sanitari per fermare la trasmissione del virus ai figli. Pubblicizziamo queste attività attraverso rappresentazioni teatrali in cui si parla di violenza sulle donne e della necessità di sottoporsi ai test. Per questo abbiamo costituito gruppi di attori e musicisti, tutti sieropositivi, che girano nei villaggi per sensibilizzare sull'AIDS. I gruppi, con l'aiuto degli operatori, scrivono i testi e li mettono in scena, curandone la regia. Qui, ad esempio, la rappresentazione teatrale è ambientata in un bar dove si vendono bevante alcoliche distillate clandestinamente. Il locale è frequentato da prostitute che non praticano sesso protetto. Uno degli avventori, ubriaco, dopo un rapporto con una di queste donne, infetterà anche la moglie. Inizierà così il calvario di una famiglia di poveri contadini. La tappa successiva dei nostri trackers è la città di Gulu, epicentro della guerra civile. L'ospedale di Lachor è rimasto sempre aperto durante il conflitto, arrivando ad ospitare 20.000 profughi. Fu fondato dai missionari comboniani di Verona e diretto per 42 anni da una coppia di medici italo-canadesi, Piero e Lucille Corti. Lucille morì di AIDS nel 92, dopo aver contratto il virus durante un'operazione chirurgica. Ma qui si è fronteggiato anche Ebola. Qui Ebola si è combattuto e Ebola ha fatto anche diverse vittime. 14 dipendenti dell'ospedale hanno pagato con la loro vita il fatto che l'ospedale ha deciso di tenere aperto e di curare, cercare di comare comunque questa tremenda malattia. Hanno perso la vita 14 persone, tra cui quello che doveva essere il direttore dell'ospedale, Matthew Lucchia, che è considerato in Uganda un eroe. Sempre a Gulu visitiamo la cooperativa Wawoto Kacé, che in lingua luo significa camminiamo insieme. Lavorano 150 persone, in maggioranza donne, affette da AIDS. Producono e vendono oggetti di artigianato con il sostegno di progetti di microcredito. Laboratori per la lavorazione di rachia, foglie, corteccia di banano restituiscono dignità a chi non avrebbe possibilità di sopravvivere. Qui il lavoro ha anche una funzione terapeutica e di socialità. La marcia dei nostri infaticabili camminatori continua. Nel villaggio di Teokutu, nel distretto di Pader, c'è la riunione del gruppo di risparmio e credito rurale. Concede prestiti con interessi del 10% per avviare attività commerciali. È il segno della rinascita dopo la guerra. Un progressivo acquisire anche di confidenza, prima di tutto con il concetto di risparmio, un concetto che era totalmente perso, perché non esisteva neanche il concetto di pianificare il futuro, quindi non esisteva la ragione alla base della quale uno dovrebbe risparmiare. E dopodiché anche confidenza nel prendere a prestito dei soldi con un sistema in quale c'è la massima trasparenza, perché ogni membro vede ciò che viene fatto con i soldi, quanto viene risparmiato, come viene gestito. Il trekking sul monte Oret è un modo per esorcizzare la violenza. Qui infatti 60.000 persone trovarono un rifugio per sfuggire alla guerra. Oggi è tornata ad essere un pezzo di paradiso. Akitgum il gruppo è accolto dalla banda musicale, composta da giovani, tutti con un passato difficile, come ci racconta Stella Amoni. Avevo 12 anni quando fui fatta prigioniera dal cosiddetto esercito di resistenza del signore insieme a mia sorella. Mi ordinarono di ucciderla, io mi rifiutai e lo fecero loro al posto mio. Rimasi due anni e mezzo nella foresta, quando tornai al mio villaggio scoprì che tutti i miei parenti erano stati ammazzati. Per un po' ho vissuto con uno zio che però non aveva i mezzi per mantenermi, poi grazie ad un'organizzazione non governativa ho ripreso a studiare. Stella non riesce a fermare le lacrime, quei ricordi continueranno a bruciare i suoi sogni. Questa esperienza resterà nel cuore dei Trekkers. I viaggiatori che stanno venendo con noi stanno facendo un'esperienza, almeno parlo anche per me stesso, un'esperienza unica, e tutte le storie che stanno incontrando poi le infileranno con un loro proprio filo. Può essere un filo d'oro, può essere un filo di nylon, normalmente un filo può essere ricco o povero, ma quello che contano sono veramente i gioielli che infila. Grazie.